Frico di patate e formaggio, la ricetta friulana di marzo Il frico di patate e formaggio è un piatto tipico della cucina italiana, una ricetta friulana che arriva direttamente dal cuore della tradizione culinaria. La sua preparazione è molto semplice e veloce, ma al tempo stesso, nonostante sia un piatto rustico, riesce a regalare tante sfumature di gusto ed una consistenza molto particolare al palato. Si tratta di una ricetta perfetta per essere preparata nel mese di marzo, quando è possibile trovare ancora patate fresche. Ingredienti patate, formaggio montassio, olio extravergine d'oliva, sale, preparazione Lavare le patate, sbucciarle e tagliarle a dadini. In una padella antiaderente, versare l'olio e rosolare le patate a fuoco medio per qualche minuto. Aggiungere il formaggio montassio grattugiato e mescolare fino a quando non si sarà completamente sciolto. Cuocete il frico a fuoco medio per 15 a 20 minuti e aggiustare di sale. Unire un filo d'olio a crudo e servire caldo.